Buonasera, questa settimana è iniziata con un vero e proprio assaggio d'estate perché l'alta pressione sta proteggendo l'Italia e dunque fino a mercoledì avremo a che fare con tanto sole e questo caldo fuori stagione. Infatti anche la giornata di domani sarà una giornata all'insegna del sole protagonista un po' su tutte le nostre regioni con un po' di nuvolosità su Liguria, parte del centro ma anche al nord est con il rischio di qualche debole pioggia o qualche temporale sul Friuli Venezia Giulia e a causa di tutto questo sole le temperature massime saranno davvero calde soprattutto al nord dove raggiungeremo picchi di ben 27 gradi.